Cari quadristi, buona sera! Ed eccoci a un altro video articolo tecnico su un'operazione di normale manutenzione. Dobbiamo finire le pastiglie dell'Outriton Outback Access 404x4 quindi facciamo questo video articolo tecnico su come cambiare le pastiglie a questo quadriciclo. Guardate che bene o male le operazioni sono le stesse. Ovviamente ogni pinzio dei freni ha dei bulloni, dei perni passanti che tengono le pastiglie diverse ma comunque per quanto riguarda i quadriciclo attiviti bene o male siamo sempre dalla stessa parte. Allora vediamo innanzitutto qua che cosa vi serve per il Triton Access. Comunque normalmente i bulloni e ruota sono solitamente una chiave del 17. Vi serve un martello a percussore e a impulsi, quindi un avvitatore a impulsi, è importante per svitare i bulloni e ruota. Vi serve questo piccolo attrezzino, se siete persone che non vogliono tirare madonna, per esempio come me, per aprire e divaricare i pistoncini della pinza perché mettendo le pastiglie nuove voi avete bisogno di divaricare i pistoncini perché le pastiglie durate ovviamente hanno l'inaferoto, se è consumato e quindi prima di installare le pastiglie nuove dovete divaricare il pistoncino della pinza. Vi serve come sempre una bella forbiciotta per aprire la confezione dei pastiglie nuove, vi serve un protector di ponna che io uso sempre, quindi questo vi serve sempre, una pinza per i seggio ad aprire, questo è per il Triton Access 400 4x4, potrebbe anche non servire in altri quadricicchi, un cricchetto con una chiava brua dell'otto, va benissimo un cricchetto da tre ottavi, non serve neanche il cricchetto da mezzo, se proprio volete fare professionisti, sempre chiava brua dell'otto, professional, ultra top, prippa propa, ma se è come le testine che stiamo a testare, che abbiamo testato della marca ultra top, frappa, la confezione di testine dell'Access, in pronta consegna, la Triton Italia le pastiglie le hai in pronta consegna, sempre che non hai male. Allora partiamo, quanti minuti siamo? Come tempo? 2 minuti e 40. Allora siamo a 2 minuti e 40, signore 2 minuti e 50, quando mi danno il via io parto, pronti? Quando è 2.50? Pronti? No, facciamo 3 minuti, 3 minuti, così il ferro darà prova della sua grande velocità, sicuramente accadrà qualche carta stronata, sentite qualche mano, no ne fai, 3 minuti, mettere a svito, 1, 2, 3, mettete giù i tre darmi, togliete per ultimo dal resto, e sfilate il cerchione, lo posizionate per terra, attenzione perché se vestite le cazze di Kenda, è un disastro perché ho preso anche quindi la gomma, girate verso l'esterno la pinza, mettete a svitare il cricchetto, oppa, e guidate la prima sforzata, una volta sforzata, prendete la pinza seggio, la inserite nel seggerino del triton, aprite il seggio, e posizionate il seggio all'interno della vaschettina, state attenti ad aprirli perché questi seggio qua sono proprio piccolini, piccolini, e si stortano con grande facilità a questo punto l'avete già smollato quindi utilizzate la chiave fissa e in questo modo la pinza uscirà dalla sede che la guida che è data da questa frangia di acciaio che è solidale con il mezzo ruota quindi, ok, siete usciti dal filetto della frangia di acciaio 1 e 1, 2 attenzione perché all'interno della pinza potrebbero esserci dei distanzieri antivibranti delle pastiglie, praticamente sono delle piccole mollettine che servono a evitare che le vostre pastiglie stridano guardiamo, le pastiglie veramente usurate dei freni sono durate mille passa chilometri comunque anzi se no dobbiamo cambiare prendete il vostro salzino per divaricare il pistancino dei freni lo vedete buona cosa il pom protector una volta che avete tolto le pastiglie allontanate la pinza dal disco bruzzate un po' di pom protector che fa sempre bene poi posizionate in questo modo il divaricatore è un filato inverso e avvitando come potete vedere rispingete all'interno il vostro pistoncino il pistoncino perfettamente aperto avete anche il busticato quindi vedete se lo avrò dato il vostro imparato pinza apriamo una concessione di pastiglie l'access tritonaccess eccolo qua che dà la concessione prima plastichetta seconda plastichetta bellina eh spettacolo bella sinterizzazione delle belle tostiglie quanto tempo ha passato? 6 minuti e 46 quanto 6 minuti? si no 3 minuti siamo partiti a 3 allora 3 minuti abbiamo tempo di qua vediamo di dare una pulita anche ai perni per fare un buon lavoro chiudiamo anche i perni magari se non si va 6 minuti di un anno una bella pulizia per il loro scorrimento mi aiuta altro di domenica ovviamente ricordatevi sempre di usare un paio di guanti protettivi a questo punto prendiamo le nostre pastiglie prendiamo la nostra pinza ricordatevi che le pastiglie stanno ovviamente dopo il la flange di tenuta al mozzo posizionate posizionate le vostre pastibuccia placca placca questa la mettiamo giù che non ci serve facciamo facciamo entrare la pinza con le sue pastiglie c'è sul freno ecco qua c'è cascata perché devo fare le cose con la fretta con la fretta per fare in fretta porca la puzza forse è meglio prima mettere la pizza prima mettere le pastiglie ma la fretta è sempre cattiva consiglia poi ci si intira sempre di più ok inserito secondo perma allineate le pastiglie perfetto piccolo controllo ci siamo clicchettone mettete la chiuda e avvicato prendendo solidale la vostra pizza alla frangia di tenuta al mozzo per cui praticamente le pizze di quadra nella maggior parte sono tutte uguali che cambia è semplicemente ricordatevi di chiudere sempre con un colpo e mai compressione continua se non spaccate tutto e comunque c'è il seggerino che vi fa la sicurezza cioè anche se si dovesse svitare il brugolone il nostro seggerino che vi fa la sicurezza e vi garantisce che uppepa ragazzi non è che mi sono rincoglienti che fondamentalmente non ci vedo perché sono vecchi quindi non vedendoci risulta difficile riposizionare il seggerino che è un po' usurato ma il suo lavoro lo fa ok ma il seggerino è un po' tanto il durato allora questo che è usurato non ci vediamo visto che è usurato vediamo di rimettere un attimino apposta cosa facciamo lo richiudiamo a mano magari con una pinzettina viene meglio questa è solo una sicurezza poi signori quando io sento che ho il nostro lavoro se l'ingegnere ha messo la sicurezza poi per non sapere la sicurezza cercate di tenerla perché magari per le vibrazioni questa stupida clippettina vedete adesso è fissa non salta fuori più questo sopra invece resta abbastanza fissa quindi il controllo questo è una buona cosa guardate che perfetto si è chiusa non chiude più ulteriormente perfetto pizza cambiata controllato mandate in passione l'impianto prima di richiudere ecco vedete che le pinte stanno muovendosi ovviamente c'è collegata la programmazione per cui è un po' dura avete fatto il lavoro e non avete niente sporcato nelle pastiglie nel disco caso mai caso mai di sudestra che se è il caso di fare un lavoro perfetto ci sono dei prodotti del lipon il brake cleaner che voi potete poi tranquillamente spessare per levare qualsiasi tipo di di unto in questo caso noi non abbiamo usato il brake cleaner non ce l'abbiamo ne qua abbiamo usato il carbocleaner che è praticamente la stessa cosa il brake cleaner è ancora più aggressivo rispetto al carbocleaner il carbocleaner è un po' meno aggressivo il brake cleaner è molto più aggressivo perché non ha problemi di guarnizione perché il carbocleaner per quanto possa spandere le guarnizioni ovviamente è sempre un po' meno aggressivo perché deve stare attento alle membrane a questo punto riprendete la ruota e prendete almeno uno dei vostri bravi la rimontate la montiamo senza di neve perché magari andiamo a farci il raduno di c'inverno saliamo al prossimo posizionate il disco e ho fatto tutto speriamo avvitate a mano il primo ma è solo una questione di sicurezza allora spianciate la vostra percussore il profondino del 17 avvitate l'altro dado che è possibile che salgano storti e quindi è molto importante evitare le ruote sono la vita acida le ruote terra quanto altro resto cercate sempre di avvitarli in modo che non sia più possibile a fare contro l'altro che si avvita mandate una battuta in battuta a croce comunque è sempre buona cosa mandarle a croce muovete un po' la voltina e poi sempre insistete un po' di più l'ultima cosa noi lo facciamo sempre ma quindi non lo facciamo tutte le ruote e fermo il tempo perché lo devi finire quanto abbiamo impiegato 15 minuti e 21 quindi 12 minuti cambia pastiglia si 12 minuti cambia pastiglia buona per poi andiamo a spiegare per poi allora sempre quando rimontate da di ruota noi non l'abbiamo fatto perché lo facciamo sempre anche tutte le ruote se l'ho smontata una volta alla settimana ci buttate dentro grasso perché assurda comunque se l'ho fatta una volta in due mesi prendete un pennellino del grasso sempre non consigliamo grassi por multifunction por pose questo funziona bene pennellino pucciate trippete il grassettino e sul filettino tac lo posizionate un po' di grassettino questo se lo fate una volta in sei mesi è importante perché così il vostro filetto non ostera e vi consente non tiratevi mai troppo è inutile mettete il vostro il vostro in battuta fa pastiglie cambiate mezzo trito nace 4x4 pronto per per massacrare tutti gli 800 bicilindrici che ci saranno al raduno di cinbergro quindi si apriamo le chiappote signore un'occhiattina da prodottino per coprire le sospensioni veramente notevole ed ecco il nostro tritonaccio 4x4 pronto per continuare il suo test long 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 run su neve a cimbergo signori un saluto da sera